Salve a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale Teto Comic 69. Oggi vi parlerò di un personaggio della Disney appartenente al mondo dei paperi abbastanza raro che io ho trovato per caso e che ve ne voglio parlare. Il personaggio si chiama Bella Quack e la sua frase tipica è Entrambi amiamo il denaro, lui può tenerlo, io posso spenderlo. Bella Quack su se stessa rivolta a paperon dei paperoni. Bella Quack scritta con Q-U-A-C-K o Bella Quack senza la C nella versione originale Belduck è un personaggio dell'universo dei paperi creato nel 1967 da un donatore sconosciuto del gruppo Disney Studio e caratterizzato graficamente da Al Hubbard. Allora, Bella Quack è una papera antropomorfa con cui Paperon dei Paperoni ebbe una storia d'amore giovanile durante la sua permanenza nel Mississippi. Discende da una ricca famiglia del profondo sud e in età adulta si occupa di commerci marittimi col suo battello Il Giglio Dorato. Quindi diciamo una papera benestante. Anche nel presente continua ad avere buoni rapporti col suo ex paperon dei paperoni che coinvolge sistematicamente in affari più o meno sballati e quindi qui possiamo rivedere un po' la figura anche se diversa con il fatto degli affari di Filos Ganga che io avevo già nel mio canale recensito quindi potete andare a vederlo. Allora, le storie in cui compare Bella Quack sono del tardo anni 60 è dovuto allo stesso Disney Studio che le creò benché non sia noto lo sceneggiatore della prima in assoluto e è probabile che si tratti di Dean Kenny quindi diciamo che l'autore che creò, cioè che sceneggiò la prima storia con cui compare Bella Quack è questo di Dick Kinney che collaborava all'epoca con Al Hubbard che invece abbiamo detto è il suo creatore grafico quindi si potrebbe dire che Bella Quack riassumendo fu creata soggettivamente da Dick Kinney e graficamente da Al Hubbard poi questo c'è da dire che però trattandosi di storie poco note e che poi venivano anche ristampate il personaggio ha goduto di una fortuna effimera infatti molti non lo ricordano questo personaggio tant'è vero che io tra amici e altri youtuber ho chiesto ma non lo conoscevano e quindi malgrado questo il personaggio ha goduto di una fortuna effimera e quindi poco ricordato allora in Italia il personaggio di Bella Quack è stato utilizzato soltanto una volta in una storia di produzione italiana molto più tarda rispetto al personaggio che era nato appunto in America negli anni 60 si tratta di una storia in cui compare anche Amelia esattamente Amelia e la grande magia Sgraffigna Grifia una storia particolare che è scritta da Augusto Macchetto e Graziano Barbaros questa storia è del 2014 però sinceramente non so a che quindi se qualcuno di voi lo può sapere a che Topolino o se è comparso in qualche numero speciale o Topolino del 2014 appunto poi successivamente quindi dopo il 2014 le siano state anche attribuite dedicate due copertine degli albi di Topolino entrambi disegnate da Marco Rota poi ancora Marco Rota la raffigurò in tenta in un catastrofico ballo con paperino perché se vedete la figura che ho postato nella community è una papera grossa cioè grossa nel senso quindi quindi anche goffa e questo è stato questo ballo è stato fatto per la promozione Operazione Quack poi il personaggio di Bella Quack disegnata da Marco Rota appare sempre notevolmente appunto come ho detto grassa ma con il becco largo tonneggiante come la maggior parte dei paperi nei disegni col ballo di paperina cosa per lei singolare non porta cappello ma fiore nei capelli perché la sua caratteristica appunto deve essere questa donnona quindi grossa che porta sempre questi cappelli floreali una cosa particolare è poi anche il becco che se vedete nella sua figura diciamo originale quella disegnata da Al Hubbard ha il becco leggermente più sottile poi appunto Marco Rota la rotonda stile paperi quindi come paperino come paperone e quindi tutto il mondo appunto il mondo dei paperi più odierno poi allora quindi tornando al discorso con paperone benché bella Quack abbia avuto una storia d'amore con paperone in anni giovanili nel presente appare matura ma decisamente meno anziana di lui e qui ecco diciamo questa qui potrebbe significare anche una contraddizione ma è stato proprio scelto perché etricamente c'è si pensa no è stato c'è si pensa appunto che era molto cioè il personaggio era molto molto più giovane di paperone dei paperoni poi ecco e questo da giovane poi un'altra caratteristica appunto del personaggio che poi in parte è stata ripresa in parte no è il ventaglio infatti lei spesso compare ma il volto coperto da questo enorme ventaglio che gli serve appunto diciamo lo agita in modo civettuolo quindi è un personaggio un po' particolare perché non si è mai capito ma forse diciamo si è capito che in realtà è qui che qui con trust si avvicina un po' al discorso anche questo recensito nel mio canale che avevo fatto con brigitta quindi diciamo che il vero vero amore di paperone dei paperoni si potrebbe dire d'oretta d'oremi perché poi alla fine sia brigitta che vediamo qui la stessa bella quacca sono più interessati al denaro di paperone che al suo vero al cuore insomma l'amore vero e proprio poi appunto altre caratteristiche del personaggio quindi ha vistose collane orecchini ha un ombrello ha un piccolo ombrellino quegli ombrellini che si usano per l'estate per ripararsi dal solo che porta sempre con sé quindi diciamo che è un adendi femminile poi ecco un'altra cosa particolare poi per quanto riguarda il suo carattere bella quacca ha un animo impetuoso e stravagante e sebbene la sua attività di navigatrice non sia priva priva di difficoltà appare sempre allegra ed entusiasta quindi è un personaggio in qualche modo positivo spende regolarmente questo torna alla frase di manica larga diciamo spende molto di quanto riesca a guadagnare finendo sistematicamente sempre al verde quindi potete ben capire scusate che non ci non ci può essere relazione con con paperon dei paperoni avaro com'è infatti paperon dei paperoni però visto che comunque ha un animo buono finisce sempre per aiutarla anche se per sua disgrazia tutto questo gli costa parecchio denaro spesso è anche incapace di resistere al temperamento vulcanico di lei perché insomma comunque è dirompente sia fisicamente che caratterialmente anche ha anche un rapporto poi confidenziale con i nipotini con Pico qua che mette a parte i suoi progetti e quindi diciamo gli fa regali gli fa acquisti particolari invece nelle storie interagisce poco o nulla con paperino che compare raramente nelle storie insieme a lei quindi diciamo che le storie in cui è comparsa sia nelle storie straniere americane che l'unica storia che poi è con Amelia quindi poniamo le storie straniere compare sempre o con paperoni o con i nipotini raramente con paperoni allora il nome originale che era bell duck si può vedere probabilmente un riferimento ironico allo stereotipo di southern bell che disegna le donne appassionanti e suberanti del profondo sud degli stati uniti quindi da qui è serenato questa bella quack appunto per disegnare questo tipo di donne di questo profondo sud è bella poi qui ecco è originale e per come e molti altri personaggi che etricamente da duck quindi è stato trasformato in quack o quindi ho detto inizialmente q a c k oppure quack senza la c poi per finire per quanto riguarda le parentele bella quack non ha rapporti di parentela con con nessuno dei personaggi ricorrenti e tuttavia gli autori della disney gli diedono una specie di famiglia che però appunto non si conoscono i nomi con padri fratelli nonni paterni dice che ha detto ora in spagna perfino un'antenata che si chiama cristina quack che vive vissuta al tempo di spagna durante cioè durante la scoperta america quindi alla fine del 1400 o quindi che dire niente il personaggio simpatico è un personaggio appunto che pochi conoscono e poi ha anche trovato se lo ritrovo ecco altre storie esempio ecco questa è una zio paperone al di là delle colonne d'ercole disegnata da tony stroble sui giosti di steven steer però sinceramente non so a chi i topolini appartengono quindi se qualcuno di voi me lo può dire sarei contento oppure c'è un'altra sempre disegnata e scritta da tony stroble zio paperone l'arte moderna poi ci sono addirittura storie spagnole appunto cui si fa riferimento a questa cristina quack poi un'altra però ecco in italia c'è solo questa ecco appagna la grande maniera graffigna graffita scritta d'augusto macchetto esatto quindi in italia come storia scritta appunto d'augusto macchetto compare solo in questa storia del 2014 che però ripeto non so a che topolino o altro albo della disney appartiene quindi niente questo è un altro personaggio che si aggiunge raro perché io sinceramente ecco non avevo non la conoscevo quindi me ne ho dovuto parlare un altro personaggio che si aggiunge al mondo dei paperi che appunto fa parte di questa mia rubrica nel canale vi ringrazio a tutti e vi auguro una buona domenica ciao a tutti ciao ciao